La curcuma ha origine ovviamente orientale in India, dove è fondamento della medicina ayurvedica con altre tre o quattro piante di cui vi parlerò dopo, guarda caso tutte coinvolte con lo stress oltretutto, però ha questo potere attraverso il suo principio attivo che è notissimo ormai che è la curcumina, di dare una disintossicazione profonda, ma non è solo quello, perché ha anche delle grandissime capacità antinfiammatorie che oggi ormai sono state documentate da lavori scientifici i più ufficiali possibili, pubblicate da riviste scientifiche internazionali, quindi ormai è una certezza, ma la cosa che mi piace di più in assoluto è che non ha nessuna controindicazione e nessun coinvolgimento con farmaci o altre sostanze, quindi può essere assunta ad occhi chiusi nel quantitativo che si vuole. Ho una domanda su questo, vita vissuta potremmo sottolineare, ne parlavo qualche giorno fa con un collega e mi chiedeva ma la usi anche sul crudo? Io la uso solamente sul crudo, quindi la domanda è si può anche cuocere tra virgolette? Senza che perda ovviamente le sue qualità. Non perde nulla, questa è una delle sue grandi capacità, però va anche detto che come fanno in oriente e la usano quotidianamente, soprattutto sulle proteine, soprattutto quando c'è un pasto ricco di proteine poco digeribili, il compito della curcuma che ha un sapore quasi inesistente è quello di migliorare la digestione di queste sostanze. Per questo usano la polvere, anche perché costa relativamente poco, ma diciamo che l'assunzione culinaria della curcuma e quindi in cucina è più del 50% della diffusione di questa pianta. Per il resto ci sono i vari tipi di estratti che hanno invece delle funzioni importantissime quali integratori e tra virgolette potrebbero essere anche assimilabili a un farmaco. Parliamo della disintossicazione del fegato e dell'infiammazione artro-reumatica. Visto che siamo tornati indietro di qualche migliaia di anni, parlando ovviamente di medicina iurvedica circa 4.000, se non vado errato, quali sono le altre piante? Ci hai messo subito una grande curiosità, vogliamo i nomi. La seconda perché ha una doppia valenza, un po' come la curcuma, secondo me leggerissimamente meno potente, ma interessantissima, è l'incenso, la boswellia serrata. Oggi voi la troverete in vari tipi di integratori e di prodotti. Io penso che presto sarà anche inserita in qualche farmaco perché i lavori scientifici ne attribuiscono capacità che possono essere effettivamente utilizzate anche in quell'ambito, ma la boswellia che è l'incenso, a tutti gli effetti, ha una capacità sui disturbi infiammatori anche abbastanza generali, generalizzati, molto molto rilevante, tanto che la sua capacità che è un po' come quella della curcumina è di andare nel sangue, per capirci, e diffondersi nel corpo e andare ad agire dove è ritenuto più importante. Non è tanto che noi assumiamo, questa secondo me è una cosa simpatica da poter dire, noi assumiamo degli estratti di curcuma e pensiamo di stare operando su una disintossicazione del fegato o epatica, invece in quel momento magari stiamo soffrendo di un'infiammazione a una spalla, alla cervicale, in un altro punto del corpo e la curcuma sta andando lì, perché il corpo in genere decide di andare a migliorare e salvare la cosa più importante in quel momento.